La tutela ambientale sul territorio nissena è stata oggetto dell'incontro tra il prefetto di Caltanissetta, Chiararmenia, i rappresentanti del WWF Italia, Domenico Aiello, responsabile della tutela giuridica della natura, e Gian Paolo Oddi, coordinatore nazionale Guardie Volontarie. Vari temi affrontati, dall'educazione e sensibilizzazione della collettività alla vigilanza e controllo del territorio, illustrata anche l'attività dell'associazione nella provincia nissena svolta dalla stessa, in attuazione di quelli che sono i principi e i valori sanciti dall'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, anche nell'interesse delle future generazioni. L'incontro di oggi in prefettura è stato certamente positivo, siamo molto soddisfatti, abbiamo incontrato un prefetto veramente sensibile, veramente attenta a quelle che sono le problematiche di questo contesto territoriale, sociale e anche le problematiche ambientali che afferiscono a tutto il mondo della tutela dell'ambiente e degli animali. Quindi ringraziamo la prefettura per la sua sensibilità, per la disponibilità, per l'impegno che a tutto tondo garantisce nei confronti di questa terra e auspichiamo che il dialogo anche con la prefettura, ma con tutte le realtà territoriali, istituzionali, associative, eccetera, di questo territorio sia sempre più ampio perché solo stando uniti verso un unico obiettivo, che è quello della legalità, la tutela dell'ambiente coincide perfettamente con la tutela della legalità, si possono raggiungere risultati molto molto importanti. Nel Nisseno il WWF opera da oltre 40 anni e nel tempo è diventato il punto di riferimento del territorio per chi si occupa di tutela dell'ambiente, della natura e della biodiversità. L'importanza del controllo del territorio è fondamentale perché la Sicilia è la prima isola e quindi la prima parte dell'Italia che è interessata dalla migrazione dei migratori sub-sahariani e del nord Africa che migrano verso le rotte del nord Italia e del nord Europa. È fondamentale la necessità di implementare il controllo del territorio. Un incontro proficuo quindi è la prospettiva di un percorso condiviso. Grazie.